prima della fine dell'anno volevo dirvi una cosetta perdonate l'abbigliamento perché è l'abbigliamento da lockdown non possiamo farci niente allora io sto vedendo alcune cose che non mi piacciono stasera vi parlerò di due cose molto importanti vi parlerò dei negazionisti novax e altro ma non per quello che immaginate ma per quello che presumo ci sia dietro e sono sicuro che c'è quello che volevo dirvi poi vi parlerò della recovery found quello che volevo dirvi è che voi sì lo so chi ormai si è fatto convincere gli puoi dire qualunque cosa gli puoi dare anche un piatto di veleno vuol dire che il miglior pranzo che abbia che abbia mai avuto la coercizione mentale di certa gente assolutamente non gli possiamo fare niente insomma però voglio dirvi una cosa voi vi rendete conto che questa gente ha tutto interesse che la pandemia non finisca e tutto il resto perché perché vi chiedete voi perché la pandemia è un affare qui la gente muore si ammala ci sono le case farmaceutiche che studiano i prodotti per guarirci benvengano i famosi vaccini meglio ancora ma non sono gratuiti si pagano e quindi c'è il primo guadagno e poi ci sono chi impedisce che avvenga questo perché perché si dice che nel 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 fango il maiale ci sguazza meglio e cioè cosa vuol dire tutti questi video che girano mostrando fantomatiche virologi che nascono a destra sinistra e alla fine non ci sono cioè io voglio vedere anche un virologo mi dice che due più due fanno quattro io lo voglio vedere scritto e certificato non perché l'ha detto tizio l'ha detto qua può essere pure la migliore persona di questo mondo deve essere verificata e qua l'unica della cosa verificata che io vedo è che questa gente ci guadagna perché con questi video ci guadagnano un bel po di soldi addirittura ci sono dei video che per vedere la soluzione alla pandemia devi pagare 5 euro ma voi vi rendete conto come vi state facendo prendere in giro quasi muore lo so che si muore pure di altro ma all'altro adesso ci aggiungi pure il covid quindi si muore di altro e di covid il covid esiste ed esisterà sempre anche con il vaccino è inutile che vi dica sparirà non sparirà niente il vaccino serve a proteggerci forse fa tre quattro generazioni il covid sarà una cosa blanda ma per adesso ci dobbiamo proteggere se non le tre quattro generazioni non ci arriviamo non so se riesco a spiegarmi bene poi voglio parlare adesso chiudiamo questa parte della negazione isma e tutto il resto che più o meno vi ho fatto spiegare come ci stanno guadagnando e come vi fate prendere in giro voi non si sa capire vi dicono il vaccino è stato fatto in poco tempo quindi non è valido il vaccino è stato fatto in base ad un vaccino preparato per la sars molti anni fa non per niente del covid si chiama sars cov covid 2 quindi è dello stesso ceppo della sars quindi è stato facile prendere gli studi sulla sars e continuarli sapete quanti anni sono passati una decina d'anni quindi non sono pochi anni non solo pochi mesi e poi quando si fa quando si fanno delle ricerche purtroppo dietro le ricerche c'è un gettito di denaro vuoi che il gettito finisca oppure chi sta facendo la ricerca viene licenziato viene sostituito per un motivo x si ricomincia da capo si ricomincia sempre da capo e le ricerche questo vi fanno capire come mai la lotta per il tumore altre cose vanno per le lunghe proprio per questo motivo invece con il covid e ci sono stati bombardati di soldi dal primo momento hanno lavorato notte e giorno già su una base preesistente ma il bello è che io lo sto dicendo a chi persone che che non hanno niente da nascondere ma ci sono purtroppo quelli che ormai ci sono fatti infartare il cervello diranno assolutamente lo so scriveranno tutto questo video me ne diranno di tutti i colori ma a me non interessa come ho detto altre volte dio vede provvede io intanto lo faccio il vaccino anche se ma rischio di morire come dicono loro non mi interessa però almeno so che tenterò possibilmente di eliminarlo per lasciare un futuro migliore ai nostri figli quindi chi non vuole farlo a parte chi si è fatto plagiare ma chi comanda dietro a un interesse di tenervi sotto le loro grinfie e guadagnarci sapete cosa vuol dire guadagnarci parliamo di altro il recovery phone seconda parte il recovery phone bellissima cosa non voglio fare no ma avete capito già di chi sto parlando qualcuno che si vanta di essere meridionalista che vende libri giornalista quale si vanta che ha fatto i calcoli si vanta di amicizie con personaggi di 5 stelle che stanno al governo che stanno all'europa sono fatti loro che sia vero sia falso non lo so potrebbe anche essere una cosa inventata per per fare proselitismo io mi auguro che sia vero però se fosse così però 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 gli dico una cosa abbiamo i progetti per il recovery phone questo quello quell'altro quali sono i progetti li possiamo vedere no e perché no perché non te li faremmo vedere perché loro a parte il fatto apriamo una parentesi dalle ultime informazioni si dice il recovery phone non sarà più di oltre 200 milioni di euro ma di 110 quindi la metà queste persone legato che a questo fantomatico personaggio si stanno già organizzando con i loro progetti come fare per prendersi questi soldi che investiranno magari nel sud ma lo investiranno nelle loro tasche ecco perché non ti dicono quali sono i progetti se è vero che esistono ecco che il recovery phone è diventata un'altra fonte di reddito per imbroglioni che stanno al sud quindi questi finti meridionalisti si preparano al sacco del sud qualora arrivino quei soldi ma la vedo dura comunque voglio solo dirvi un'ultima cosa state buoni se potete come diceva san filippo se no voi volete fare il vaccino non lo fate ma lasciate in pace chi se lo vuole fare ricordatevi solo questo che se vi ammalate so cavoli vostri che si fa il vaccino ha una probabilità di non ammalarsi quindi il futuro non è scritto come dicono i negazionisti novax e simili il futuro lo fai tu e se tu non fermi l'epidemia quale cavolo futuro vuoi il futuro di chi si vuole arricchire dietro le tue spalle o tornando a quei finti meridionalisti che si muovono nell'ombra addirittura mostrando dottori universitari o personaggi israeliani non lo voglio dire non lo dirò qui non lo dirò perché io non posso dire cose di cui non posso dimostrare con i fatti non posso dire cose di cui ho saputo però non possono apparire queste persone quindi non ve lo dirò però io sento puzza di bruciato dietro questi finti meridionalisti buon anno a tutti e che dio c'è la mano di buono e ricordatevi sempre dio vede provvede